Alle dieci e mezzo le dosi di vaccino somministrate erano, come scritto, 285.799, che si traducono in 108.841 persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione previsto. Sono quasi 110.000 le persone che in Veneto hanno già completato il ciclo della vaccinazione anti-Covid. Il più anziano ha 110 anni, ma la classe d'età al momento dominante è quella tra i 50 e i 59. Più di 60.000 vaccinati sono operatori di strutture sanitarie pubbliche e private. Quasi 20.000 sono ospiti di strutture sociosanitarie. Sabato mattina, inoltre, sono arrivate le ipotesi di fornitura dei vaccini in Veneto per tutto il mese di marzo. Per quanto riguarda Pfizer, le forniture cominciano a essere abbastanza interessanti, perché dal primo marzo abbiamo a salire 52.000 dosi abbondanti e poi si stabilizza per ogni settimana su 56.160 dosi. Entro marzo, inoltre, è previsto l'arrivo complessivo di 273.500 dosi di AstraZeneca e 109.900 dosi di Moderna, previsioni di fornitura che permettono di pianificare la campagna vaccinale su basi solide. C'è qualche reazione locale. La febbre è una delle reazioni più attese e più frequenti, anche dopo un qualsiasi vaccino, soprattutto nelle 48 ore. Qualche decina di segnalazioni di febbre c'è stata, stiamo parlando di circa 6.700 somministrazioni di AstraZeneca. La precisazione del direttore dell'Unità di Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto arriva dopo diversi casi di insegnanti rimasti a casa da scuola dopo la vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca. Sono effetti attesi di qualunque vaccinazione. Con AstraZeneca lo stiamo usando da sabato. ci vuole anche un arco temporale di osservazione maggiore per vedere anche l'impatto di questi effetti, ma che comunque sono effetti attesi.